Eccoci dunque ad analizzare l'andamento della fine settimana calcistico e sportivo in generale lo facciamo partendo dal Corriere dell'Umbria apertura ovviamente con la Serie B Grifo comanda il Curi, Ferre, Tesoro, Palombia per oggi è tornato il fattore casalingo a Terni c'è un baby d'oro tempo di commenti ovviamente sull'andamento della ottima giornata di sabato per le due Umbria di Serie B però il fatto ancora nella prima pagina del dorso sportivo Noa, Fulginium, Giove, a fine gara scoppia la rissa ne fanno le spese allenatore e dirigente della squadra locale sul posto ambulanza, polizia e carabiniere ripartiamo dalla Serie B con il Perugia il Curi che è tornato risorsa Grifo confermati col Pisa caccia la doppietta interna come all'andata per eguagliare la striscia di sette risultati utili di fila i numeri di Biancorossi stanno lievitando con sei sconfitte il Perugia la squadra che ha perso meno partite della B davvero un momento positivo per la formazione di Bucchi contro il Pisa probabili tre facce nuove si gioca già domani sera del Prete a Campo racciaccati Fazzi, Gnaurè e Mustacchio in rampa di lancio Le Fere, la Ternana ora serve continuità al Vigorito dopo l'impresa di Novara guai a fermarsi decisivo rilancio di Petriccione e Palombi due giocatori poco utilizzati nelle precedenti gestioni si stanno rivelando fondamentali per l'ex Laziale sei gol in diciannove gare oggi rifinitura a Mostacciano di Roma di noi assalta anche la gara di Benevento andiamo invece nella nota stonata della giornata tra i professionisti a quella del Gubbio Gubbio impicchiata a Sant'Arcangelo c'è il terzo K.O. di fila ora i Romagnoli in dicessimi sono lontani sei punti playoff non più così sicuri come qualche turno fa Ferri Marini sbaglia un gol in avvio ma la difesa Rosso Blu fa acqua guizzo decisivo di Cesaretti nel finale chance per il Principino Casiraghi entrato a gara in corso le pagelle disattenzione fatale per Calombo croce non è all'altezza di Romano erroraccio sottoporta per Ferri Marini questo è l'andamento della prestazione dei calciatori di Rosso Blu pochi sono stati i pericoli portati alla formazione di Marcolini non certo il Le Barça a titolo del Corriere dell'Umbria Maggi dice quanta amarezza sconfitta evitabile ma faccio fatica a rimproverare qualcosa ai ragazzi c'è stata la voglia di reagire ho rivisto segnali di spirito battagliero sarebbe stato più giusto lo 0-0 Casiraghi fuori era diffidato e Maggi sarà l'ospite di questa sera a fuori gioco con l'analisi ovviamente della gara di Sant'Arcangelo del momento non positivo della truppa Rosso Blu e ovviamente dell'intero girone B di Lega Pro appuntamento dunque dalle 21 tra gli ospiti come detto il tecnico del Gubbio Giuseppe Maggi allora ripartiamo dal Perugia con la Nazione Tour de Force solo ritocchi per il Grifo domani sera altra sfida interna contro il Pisabucchi pensa un cambio per reparto Fazzi Gnaurè Mustacchio al posto di Del Prete a campo Reni Castro come detto Toscani ultimi con la migliore difesa del campionato anche per effetto delle penalizzazioni tutti alcuni ecco gli orari della biglietteria dopo i 9.000 di sabato si punta a quota 10.000 l'elenco delle ricevitorie per acquistare il tagliando il Gubbio Gubbio terzo K.O. consecutivo il gioco è troppo discontinuo la razione rosso-blu di Maggi arriva a tardi finisce dunque 1-0 a Sant'Arcangelo ancora Perugia con il messaggero Grifo doppietta in canna il Perugia offensivo si gode il quarto posto e il record squadra con meno sconfitte e la seconda difesa della B dopo Bisoli ecco al Curi un altro ex già battuto all'andata arriva il Pisa di Gattuso ultimo in classifica in piena crisi tant'amo dei tifosi e ora ritornare al Curi Bucchi Bisoli passaggio di consegne generazionale il calcio propositivo ragionato del manager abbattuto quello chiuso e sparagnino dell'artigiano questa la riflessione sulla rissa di fine gara con il Vicenza stangato Renato Barbosa beccato dal guardanino a tirare un pugno tre turni di squalifica la Ternane il ballo di Simone il portiere a resta e la punta Palombi hanno lo stesso nome sono stati recissivi nella vittoria in trasferta con il Novara la doppietta del giovane attaccante ha ridato fiducia a tutto l'ambiente ed ora la salvezza non è più un miraggio Liverani è riuscito a trovare il bandolo della matassa e Gubbio andiamo in Lega Pro perde la strada la scuola di Maggi sconfitta in Romagna dal Sant'Arcangelo per 1-0 a mettere la parola a fine della partita è stato Cesaretti continua la fase calante con la terza sconfitta consecutiva e una sola vittoria nelle ultime otto giornate Maggi deluso ma fiducioso non facciamo gol ma finalmente ho rivisto lo spirito giusto come detto questo l'analisi a fine gara del tecnico rosso-blu che ritroverete questa sera ospite nell'appuntamento di fuori gioco per la riflessione sull'intera giornata di Lega Pro Gironebbi e sull'andamento ovviamente del campionato di questa fase in particolare della stagione per l'11 e Gubbino allora noi lasciamo il mondo dei professionisti andiamo in quello dei dilettanti con la serie D ancora Mara per il Città di Castello sconfitta Lampo all'ANU6 bastano 25 secondi gol record di Papini manca la reazione dei Tifernati in campo senza orgoglio incredibile K.O. dei padroni di casa che vanno sotto alla prima azione e non trovano il pareggio in 97 minuti mister Fiorucci dice paghiamo la politica dei tagli della società delusione e rabbia a fine partita il capitano Massetti ci abbiamo provato fino alla fine inutilmente ma non siamo disposti a mollare non ha invece giocato è ormai una consuetudine in questo campionato il Foligno oggi nuove audizioni nella procura federale la C4 dice no al nuovo club ancora dal girone G di serie D Sardegna Mara il Trestina gioca bene ma esce sconfitto la Noresse vince 1-0 i bianconeri sfiorano il pareggio con Nonni al novantesimo partita vibrante i padroni di casa la spuntano con la rete di Falasca e poi resistono malgrado l'inferiorità numerica il tecnico Zampagna soddisfatto dice meritavamo il gol del pareggio ma ci è mancata la cattiveria per concludere con l'andamento delle formazioni Umbra segnaliamo la formazione che è Umbra dal punto di vista federale Sansepolcro e la sconfitta 1-3 in casa con l'Ostiamare ma è sicuramente una sconfitta che non porta conseguenze per la truppa di Schenardi vediamo ancora i titoli con il messaggero Città di Castello addio alle armi Lanu 6 ok 1-0 e poi Trestina a Nuoro arriva una sconfitta in dolore andiamo alla Nazione per leggere insieme le pagine dedicate all'eccellenza al massimo campionato regionale che ha visto ancora un capitolo a favore del Villa Biagio che ha fatto su un altro scontro diretto con il Bastia batte anche il Bastia e vola a più 7 successo firmato da Cardarelli su rigore Ciurnelli Chicri paga un rigore para un rigore i ragazzi di Cocciari cominciano a crederci il tecnico dice abbiamo un piede e mezzo in serie Villa Biagio capitalizza le occasioni compreso il penalty parato in una partita non particolarmente brillante gli altri risultati in particolare lo 0-0 della Voluntas Spoleto sul campo del Ventinella un pari che non serve a nessuno dei due contendenti Ventinella concede poco o niente la Voluntas soffre l'assenza di De Costanzo altra vittoria importante quella dell'Angelana che va a vincere sul campo del Subasio della Subasio 1-0 il derby va all'Angelana rete di Tacucci che gira un cross di 20 anni Massamartana che vince 2-1 a Castella del Piano e poi il Gualdo Corsaro tre punti che pesano a Orte 2-0 Sanzisto Fontanelle il posticipo 1-1 Menichini sullo scadere la gara finisce in parità un punto ciascuno che contenta tutti nella gara appunto tra Sanzisto e Fontanelle e Branche poi l'Armese vince tre punti pesantissimi 1-0 a Petrignano il Torgiano non si presenta a Lama i padroni casserano in campo i gialloblu saranno penalizzati questo dunque con l'eccellenza torniamo al Corriere dell'Umbria per gli altri campionati partendo dalla promozione gironea con la Trasimeno che è capace della rimonta sul campo dell'Ellera che si illude e poi la Beffa finisce 2-2 sorpresone a Tavernelle a casa del diavolo 4-1 al San Marco Iventina va sul la San Marco Iventina va sul Velluto all'Erchi servirebbe un miracolo 0-3 Madonna del Latte San Secondo che forza ma il Montone protesta 1-1 dura l'ex Sadex Pontevecchio punita nel finale Cecchini si fa pure parare un rigore da Marconi Pontevecchio Ponte Valleceppi 0-1 poi Illusione Pievese l'Agello impatta con Cacciavillani altro passettino la più tra lunghe se soltanto 0-0 con la Virtus e ancora De Luca e Chirulla gasano il pianello il Marra si sveglia troppo tardi è 2-1 Girone B Cannara prova di forza l'eccellenza più vicina grande prestazione nel secondo tempo è netto 3-0 al Todi ancora Guancea Rossi e il Nocera iniziano con un pareggio contro l'MC 98 è 1-1 Nestor Eclitunno senza reti e Marinacci ipnotizza Rossi e poi la Ducato supera il Campitello ritrova il terzo posto in classifica Orvietana Power batte la Tirus e crede alla vetta prima categoria Girone A i titoli poker per la capolista Viola il Selci risponde con un bis Girone B Corciano quasi pronto alla festa Ficullese con il bronzo al collo Girone C Tibere visse per i playoff Pila la vittoria del cuore Girone D Bosco mantiene il più 5 sul cascio supera K.O. Il Colonia si avvicina andiamo in seconda categoria Girone A doppio gesto di fair play tra Promano e Valdipierle Volpi e Nardoni ammettono di aver segnato di mano sarebbe stato un gol oltremodo importante a Monte Acuto intanto il Monte Acuto mantiene la vetta Real Padule e Carbone Ronesca rallentano Girone B piena bagarre nella zona playoff rientra nella corsa il Sant'Egidio Girone C se il Real Sant'Orso la riposa il Via Larga non resta fermo Girone D Sanluca e Stroncone fanno pari tra litiganti gode il San Gemini lasciamo il calcio e andiamo al calcio a 5 il Massa Martana è tra i big cuore e resilienza per la C1 la vittoria del campionato con promozione all'ultimo tuffo Gubbio Burano lotta per un posto penultimo turno di campionato per la Serie C1 ed è un passo dalla conclusione che arriverà nel prossimo weekend c'è la pallavolo in primo piano con il Corriere dell'Umbria ieri nel fine settimana giornata di sostanziale riposo per la Sir che attende la sfida di prossimo fine settimana gara 3 a Trento per la semifinale il punteggio di 1 a 1 a parlare è Andrea Radici rientrato a Città di Castello che fa le carte playoff dice sì la Sir può vincere tanto differenze minime tra i team ma Perugia ha più fame Zaitz aveva cresciuto con me fui il primo a vederlo schiacciatore e allora andiamo a vedere anche le altre discipline il fine settimana di pallavolo e basket la pallavolo di Buno femminile Zambelli ok al tie break in casa del San Lazzaro il Vietana porta una casa due punti e ora sono secondo c'era il derby tra San Giustino e Perugia hanno vinto le Perugine 3 a 2 poi l'Immi Bastia successo d'oro per la corsa salvezza 3 a 1 Reggio Emilia va al tappeto tutti i risultati della giornata con la sconfitta della Morigubbio a Corridonia e poi la 3M Perugia che piazza il colpo che vuole dire quasi sicurezza di rimanere nel campionato anche qui in B2 femminile bimaschile città di Castella forza 3 anche in cassa delle CLT Terni conti top scorer con 19 punti il basket dicevamo la sicoma si deve fermare contro l'amatori Pescara partita dai tre volti con gli uomini di Pierotti che hanno sfiorato il colpaccio Abruzzesi in fuga nel secondo e terzo quarto Casuscelli e i soci si rialzano non basta 60 a 68 in C silver maschile Perugia match point fallito Foligno riapre tutto blizza della Lucky Wind che rovina la festa l'aliomatica il quintetto di Livieri in gara 4 può pareggiare la serie in casa e poi per il basket femminile gioia basket Perugia Gualdo Giù 40 a 39 e campionato vinto il ciclismo cardinale super nel ricordo di Renato Amantini vittoria di prestigio nella gara allievi per il giovane della forte braccio tre junior quinto posto per Pencedano San Giovanni in Marigliano e poi Asiliani settima posizione al Gran Premio dei Colli Marignanesi prima uscita buona per i giovanissimi a Foligno queste dunque alcune delle manifestazioni del fine settimana delle due ruote per il podismo invece la mezza di Città di Castello è di El Khalil e Paola Garinei i vincitori secondo di Lorenzo Rossi e Benedetta Rossi Lorenzo Rossi e Benedetta Rossi appunto terzi Patrizia Lacrimini e Lanzi invece in 250 al quarto trofeo circolo dipendenti della Perugina triputo di colori e di giovani a Santa Andrea delle Fratte il rugby un altro squillo per la Barton che vola in vetta segnaliamo anche la Tifernum la 2 adesso in realtà complimenti da Gnozza e Bacchetta Città di Castello che si esalta e chiude in bellezza 14 a 35 e ancora in serie a femminile disco rosso per le donne etrusche 8 a 28 nel tennis a squadra Junior Perugia avvio col botto altre discipline brevemente con la Nazione alcuni spunti che arrivano dalla Pallavolo per esempio con la a 2 maschile playoff per la Monini una storica semifinale si rinnova la sfida con Sena avversari di sempre per la Super Lega anche con la Nazione tutti i risultati di Pallavolo e basket nella femminile segnala una sconfitta di Umberti rebattuto per due soli punti dal Broni finisce dunque l'avventura per le ragazze di Serventi il podismo con la mezza Maratona di Città di Castello il rugby con la prova grigia Malabarton resta in vetta altri altri notizi la società Gubbio Mocaiana si aggiudica il trofeo Forignati tra i giovanissimi negli allievi Zampata vincente di Nicono Cardinali e poi per l'Elit Under 23 Zulla la grande bravo delle foglie da Città di Castello come abbiamo visto chiudiamo con il messaggero la occasione unica per la Sir secondo il quotidiano romano Final Four Capitan Bilarelli suona la carica e Block Devils chiama raccolte i tifosi per la manifestazione di Roma la squadra intanto pensa alla gara 3 della semifinale Scudetto contro Trento evitato abbassare la guardia poi il basket con i risultati di giornata segnaliamo l'Atletica Winner Ferri campione con il cross continuano i successi della società Folignati presenti anche le maratone di Roma e Milano e poi il tennis tavolo Tiferno vince e vola in serie a 1 e allora noi con questo chiudiamo il nostro appuntamento con l'informazione di TRG mattina ovviamente tutti gli aggiornamenti nel portale trgmedia.it che vediamo dalle 19 i nostri notiziari quello dedicato alla provincia all'Alto Chiascio e allo sport come detto stasera come ogni lunedì torna fuori gioco tra gli ospiti il tecnico del Gubbio Maggi a meno resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento con i nostri programmi a meno resta che ringrazii